benvenuti su soluzioni pc oggi vedremo come spegnere il computer tramite lo stesso tasto con cui lo accendete molto comodo per risparmiare tempo e poi mi sono sempre chiesto perché non potessi spegnere il computer dallo stesso tasto con cui lo accendo come se fosse un normalissimo televisore e adesso lo potremo fare è molto semplice per prima cosa andiamo sulla barra di ricerca di windows e digitiamo pannello di controllo se non avete la barra di ricerca è molto semplice probabilmente avete l'impostazione della barra di ricerca nascosta o sotto mostra icona basterà modificarlo per fare in modo che diventi nuovo visibile la barra di ricerca andiamo sulla barra di ricerca digitiamo basta scrivere pia entriamo nel pannello di controllo e sotto sistema e sicurezza troveremo le opzioni di risparmio energia clicchiamo su cambia comportamento di pulsanti di alimentazione e in questa schermata potremo modificare il comportamento del pulsante con cui accendiamo il computer questa è l'opzione adesso il mio è già selezionato correttamente però per voi basterà selezionare arresto il sistema da questo menu a tendina una volta selezionato andiamo su salva cambiamenti ed ecco che basterà premere il pulsante di alimentazione di nuovo per spegnere in automatico il computer spero di esservi stato utile lasciate un like e un commento se avete delle domande da farmi iscrivetevi per favore al canale così da potervi portare altri contenuti ci vediamo al prossimo video ciao